Continua l'emorragia di imprese attive nel settore dell'artigianato, complice la battuta d'arresto della produzione industriale in Emilia-Romagna nei primi mesi del 2016. A fine marzo le imprese manifatturiere attive in regione erano 29.000, in calo del 2,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato di quasi un punto superiore rispetto alla media nazionale. Secondo l'indagine sulla congiuntura dell'artigianato realizzata in collaborazione tra Camere di Commercio e Union Camere Emilia-Romagna, la ripresa di questo comparto ha subito un rallentamento anche per volume e giro d'affari. Nel dettaglio il fatturato complessivo ha perso lo 0,7%, la produzione ha subito un arretramento dello 0,8% mentre era lievemente aumentata nel trimestre precedente. A testimonianza del trend negativo, i primi tre mesi del 2016 si sono chiusi con una forte crescita della cassa integrazione. Unica prospettiva positiva per il settore è il dato che riguarda le poche imprese con accesso ai mercati esteri, che hanno invece ottenuto risultati positivi.